Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. . 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 No, 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 non. No, 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 non, non. Yeah? Iscriviti, yeah? E cosa he's doing è un' molto, molto small step. Perché si è in same spot now. E quindi andi andi and he just go down and has la ultima step here. Too close. Quindi, hai da fare un po' più lungo. E adesso fare qualcosa di controllo. Poi faccio. Ma in testa in tanto tempo di farci. Se in processi più la lente? Yeah. Grazie.